viaggiare e non partire è un bellissimo titolo del libro scritto dallo psicoterapeuta ma è tanto altro andrea bocconi un libro edito tra l'altro dagli amici di ediciclo dedicato come leggo a tutti coloro che viaggiano fisicamente o soltanto con la fantasia in cui si trovano consigli riflessioni massime esperienze di viaggi più disparati una bibliografia e magari lo facciamo anche vedere subito in copertina eccolo qua poco ragionata e tutta di cuore del viaggio beh fa anche piacere dire che nel libro che è una riedizione molto importante di un libro quasi un cult nell'ambito del viaggiare ci sono anche contributi importanti tra cui quello di un grande che non ho mai avuto la fortuna di intervistare mi è molto dispiaciuto che era tiziano terzani e che abbiamo tutti molto amato motivi più che sufficienti insomma per ospitare con grande cordialità e gradevolezza andrea bocconi che sarà con noi subito dopo la sigla allora benvenuto al dottor bocconi è un piacere ospitarla lei non sa quanto perché si leggono i suoi libri si leggono tutti i suoi libri compreso anche questo che adesso viene benissimo rieditato cosa ha spinto lei anche di ciclo a questa nuova gradevolissima fatica ma più che fatica un piacere veramente è un libro che è uscito vent'anni fa e in vent'anni cambiano perfino le cellule dello scheletro cambiano un paio di volte per cui io non sono più quello che l'ha scritto allora e ho voluto quindi nella proposta di ciclo non lasciarlo così com'era ma aggiungerci delle parti che a cui tenevo particolarmente una era proprio raccontare come questo libro sia nato sia stato pubblicato anche grazie a tiziano terziani che lo aveva letto in una edizione bizzarra e in inglese pubblicata a bali da un editore che aveva sede a hong kong e gliel'avevo fatto pervenire e lui mi aveva poi cercato perché gli era piaciuto e ne è nato sia un rapporto di amicizia ma anche il fatto che terziani proprio sul finire del primo incontro che durò otto nove ore perché ci troviamo a parlare veramente avevamo tante cose che tanti incroci di vita che ci avvicinavano e lui poi lo propose al suo editore era il gruppo james e quindi un mese dopo mi telefonò luigi brioschi della guanda dicendo il libro ci piace lo facciamo era stato rifiutato con molti complimenti da mi pare 14 case editrici ha avuto fortuna con molti complimenti però è andrea con molti complimenti infatti avrei preferito il libro non ci piace la motivazione era sempre la stessa era questo libro però è un po saggio un po narrativa un po interviste un po diario di viaggio e io alla fine dicevo è un ornitorinco è come quell'animale che pensavano fosse messo insieme da diversi animali prendetelo così e se vi piace e invece è un libro che appunto è andato molto bene e mi è piaciuto riscrivere qualche cosa sia non solo quella il discorso l'omaggio a terzani a cui in fondo è dedicato proprio alla sua memoria perché poi abbiamo continuato ad avere rapporto molto molto intenso sono andato anche in indietro a trovare e e poi ho voluto rifiutare fare una postfazione perché tutto è cambiato nel viaggio da quello che gli ultimi vent'anni abbiamo avuto nel frattempo la la pandemia abbiamo avuto i viaggi clandestini oltre i 200 metri da casa durante il covid e nel frattempo sono venute è successo di tutto no certi itinerari che si potevano fare non si possono più fare perché non si può passare dall'afghanistan per dirne una ecco ma come si fa a viaggiare e non partire è una domanda che le avranno fatto tante volte ma proprio quel passaggio dei tanti anni oggi che cosa significa viaggiare e non partire perché credo siano cambiati anche i significati o sbaglio ma vede per esempio quando ho presentato questo altri libri di viaggio sempre c'era qualcuno che mi diceva ma lei quanti paesi ha visitato oppure quante volte è stato in india perché come come chiedevano a salgari e lo chiedevano a salgari quante volte è stato in india io diciamo ma non lo so esattamente fra 15 e 20 e uno mi disse io 54 cioè questa gara questo consumismo del viaggio è veramente contrario allo spirito del viaggiatore e quindi secondo me ci sono persone che viaggiano molto ma non partono mai si portano dietro sempre e la loro visione del mondo i loro pregiudizi il confronto sempre sfavorevole e e questo è il negativo del viaggiare e non partire poi ci sono grandi saggi lao zè per esempio ma lo stesso seneca che dicevano ma è inutile che tu cambi il cielo sopra di te e porti sempre con te i tuoi problemi o la zè dice saggio senza senza guardare dalla finestra conosce il mondo quindi per me c'è chi viaggia però non parte mai c'è chi non viaggia ma sa partire c'è chi viaggia e chi è parte e c'è chi non viaggia e non parte no è ben chiuso io sono lucchese e lucca è una curiosa città sotto questo aspetto perché dato la cerchia delle mura e la la circonda ci sono persone che non si avventurano più in là della versilia per tutta la vita viariggio e forte di marmi e ci sono grandissimi viaggiatori carlo che andava nella te scriveva libri di viaggio deliziosi tipo nella terra dei gnam gnam ma senta andrea per quale motivo lei continua a definirsi un viaggiatore per niente pentito di che cosa dovrebbe pentirsi ma con la con l'età uno dovrebbe dovrebbe ci si aspetterebbe magari che appunto diventasse della corrente di lao zè dicesse no no non c'è più bisogno ma che vai fuori ma perché vai per per le inospiti lande come scriveva carlo campanile guardi proprio di recente e io è cambiato il mio modo di viaggiare nel senso che per esempio era molto più legato ora al fare qualche cosa per esempio con una con la fondazione che fa progetti educativi sono andato tre volte in nicaragua due volte in india lavorando con gli con gli educatori del posto e questo è il viaggio che mi interessa di più poi ci sono i viaggi che chiamo a chilometri 1 che sono bellissimi cioè quello dello scoprire veramente intorno a casa l'intorno a a casa un libro che vorrò ripubblicare ma di nuovo ci vorrò anche rinfrescarlo con un altro cammino decisi di fare un cammino di un mese tutto vicino a casa cioè volevo vedere le sorgenti dell'arno le sorgenti del tevere tornare dal lago trasimeno e ritornare a casa fare un quadrato mai più lontano di 30 chilometri da dove vivo ora ad arezzo e quindi sono belli questi viaggi qui e e poi appena uno si rimette in moto c'è quel po di adrenalina quel quel piacere anche della difficoltà no perché si esce da quello stereotipo delle cose funzionano così i miei sentieri sono tutti tracciati l'autostrada verso lucca l'ho fatta 6.000 volte no se in un posto in irlanda e scopri che ci sono delle scogliere che non hanno la fama di quelle famose di mohar ma sono bellissime non c'è il parapetto ci si può spingere sul bordo e si vede un enorme torrione di 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 roccia nel mare su cui qualcuno aveva costruito una casa e uno è veramente diventa una cosa che è questo è accaduto 15 giorni fa io devo capire devo scoprire chi ha fatto questa follia di costruire dove ha trovato le pietre come le ha portate su se le portate in barca ha scalato per questo torrione che è comunque un centinaia di metri no questo diventa il divertente continuo del viaggio lei dice anche beh citiamo un altro libro io altrove dove fa capire che che si sta bene comunque purché si sia altrove ma c'è anche un'altra sua frase molto bella che riguarda invece questo ultimo libro lo rifacciamo a rivadere peraltro eccolo in copertina dove lei dice essere un manuale non solo sul dove come ma soprattutto con chi viaggiare o non viaggiare aggiunge ecco mi interessa molto quel con chi perché io la vedo la sento come un solitario un'anima inquieta e quindi il con chi mi 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 suggestione a capire con chi le piace viaggiare o non viaggiare ma dunque mi piace viaggiare con mia moglie mi piace viaggiare coi figli e qua si chiude l'elenco perché mi piace molto viaggiare da solo e il viaggio è un grossissimo test per qualsiasi relazione no bisogna bisogna scegliere scegliersi bene anche perché emergono poi aspetti che non ci sono nella vita di tutti i giorni magari che so io mi viene in mente che una volta ho portato un piccolo gruppo a bali è una persona che avevo sempre apprezzato come garbata gentile aveva un'arroganza con i camerieri che trattava da servitori piuttosto che da camerieri e quindi l'ha finalmente conosciuta quella persona per lo meno ne ho visto un lato che mi ha fatto pensare di sicuro non viaggerò più con te senta andrea posso chiederle che cos'è il viaggio quando diventa anche una scrittura anche una scrittura di sé perché no ma secondo me appunto la scrittura di viaggio è quella più spudoratamente autobiografica ed è anche piena di trappole perché è la prima trappola che c'ha è quella di un certo solipsismo di raccontare i propri pateni d'animo che francamente non interessano a nessuno quindi il cursore di quanto io ci vuole molta cura per per bilanciarlo e quanto io e quanto viaggio ma è senza altro proprio perché non nasce direttamente con un'autobiografia l'autobiografia a meno che uno non sia russo o sant'agostino spesso è una messa in scena di se stessi no è una messa in scena io per esempio che amo le le biografie le autobiografie non leggo nessuna delle autobiografie degli uomini politici eh eh perché so già so già no servono a a collocarsi nella o per lo meno vorrebbero collocarsi nella storia no ma mi pare che è difficile quindi invece la la scrittura la scrittura di viaggio proprio nell'incontro dell'altro nell'incontro con l'altro rivela molto di chi di chi scrive allora senta io l'ho chiamata andrea l'ho detta dottore ma avrei dovuto anche dire professore perché da allievo del grande roberto assaggioli pre che spero di pronunciare bene il cognome io sono un perugino di nascita come dice il mio cognome capitini fondatore della psicosintesi ora come docente della scuola di psicosintesi terapeutiche io la prego di dire ai tanti miei utenti che cos'è la psicosintesi perché io personalmente ne sono molto curioso poi le chiederò anche un'altra cosa per curiosità io poi le chiederò se è anche parente di capitini aldo è l'unico vanto che abbiamo sopra la dinastia non posso mai dirlo perché non so mai se va bene o se non va bene l'università mi ha insegnato a stare molto cauto su quel mio cognome si si era era un avo tra quelli tra i giusti di del mondo no eh sì sì quindi di cui essere orgogliosi noi come italiani dunque assaggioli era un medico psichiatra con una cultura sconfinata un grande interesse per la spiritualità e per le tradizioni spirituali che andava al di là della sua eh tradizione ebraica eh e eh è entrato in contatto giovanissimo sia con eh Jung e in corrispondenza con Freud però se ne è distaccato molto presto da Freud proprio perché l'interesse di Assagioli che pure ha lavorato anche manicomio quindi è uno psichiatra eh sul campo eh ufficiale medico e così via la sua visione era che bisogna in fondo la dimensione spirituale che io uso come termine laico no eh senza senza un connotato di una specifica religione è una dimensione esistenziale importantissima non solo per lo sviluppo di una persona nel senso che è vivere in accordo ai propri valori per me la dimensione cercare di farlo ma non è solo questo anche nella patologia molta patologia che entra nello studio dello psichiatra o dello psicoterapeuta non nasce tutta dal mondo freudiano che rispettiamo profondamente ma nasce anche proprio da una ricerca spirituale in qualche modo frustrata o interrotta o persa per la strada no per cui Assagioli ha ripreso dal si è riappropriato di un territorio che sembrava appartenere solo a alla teologia o o o alle religioni alle regioni e non fosse campo della psicologia che è una bestialità perché come fa a non essere un'esperienza di importante per per chi studia la psiche qualcosa che è così importante e molte persone quindi bisogna fare anche diagnosi differenziale capire se una persona sta male perché in una ricerca di se stesso profonda o sta male per dei traumi passati quindi la psicosintesi cerca di essere un metodo e una teoria che non si occupa solo di psicoterapia ma di educazione e di crescita personale e di sociale e di sociale ci sono quattro campi allora da una sua passione importante come questa da psico analista da psicoterapeuta beh insomma passiamo a un'altra sua passione quasi una religione lei sa di che cosa voglio si parla e beh insomma come si fa anche per dire al vastissimo pubblico che lei agonisticamente è uno schermitore ma lo è ancora convinto tra l'altro ho letto che si parlato dell'arte marziale dell'occidente assolutamente sì ne sono convinto io ho cominciato a fare scherma quando avevo dieci anni ne sono passati 63 ho 73 anni e la pratico tuttora e la cosa che mi interessa moltissimo e mi diverto anche molto perché esistono ovviamente delle gare per un circuito è brutto usare il termine ma veterani mi piace più elegante master ma ci sono gare per noi per tutte le fasce d'età diciamo 50 anni 60 anni 70 anni e oltre e quindi si continua a praticare questa che è un'arte marziale a tutti gli effetti e nel combattimento nel combattimento c'è ci sono sempre due avversari uno è di fronte ma l'altro siamo noi per noi stessi e quindi c'è un continuo ricerca di un miglioramento io io prendo lezione vado vado nel nella sala scherma mi faccio dare lezione e cerco di perfezionare il gesto oppure di superare certi limiti eh mentali nella pratica nella nella gara devo dire che poi è molto divertente perché fatta a questa età magari con amici che hai da 50 anni eh c'è un grosso versante amicale no gastronomico turistico finita la gara no non ci si parla ma finita la gara è un bel mondo e io credo che sia la stessa cosa che per un praticante di tai chi o di o di judo tutte judo karate no tutte le vie col do sono vie e io direi che scherma do e pubblicherò un libro su questo eh lo attendiamo lo attendiamo allora dottor bocconi mentre mostriamo ancora il suo viaggiare e non partire mi permetta di fare un'ultima citazione che riguarda un altro suo libro titolato il giro del mondo in aspettativa vorrei che lei commentasse questa frase che ho estrapolato i luoghi di perdizione sono innumerevoli i modi per sperdersi sono molti ve ne sono tanti quanti sono i motivi che spingono una persona a sparire a cancellarsi a reinventarsi ecco quale augurio ci fa allora se noi volessimo imbracciarla ancora adesso la strada del viaggiatore ba eh l'augurio è quello di eh rinfrescarsi lo sguardo ogni mattina nel senso che è molto interessante pensare domattina io esco faccio eh una serie di cose che possono essere anche di routine proviamo a farle come se fosse atterrato da Marte proviamo a farle come se fosse l'ultimo giorno della mia vita o il primo giorno della mia vita proviamo a farle come ecco questo è molto bello è molto bello perché si trasforma eh io sono un sostenitore come dicevo del viaggio a chilometri uno no? Sì il punto non è dove si va è come ci si va e cosa e cosa come si guarda non non è detto a me questo fatto del eh per esempio del eh l'esotismo per cui bisogna per forza andare lontano se no non è un viaggio ma anche andare da Lucca a Pisa a piedi può essere molto interessante anche perché lei in fondo ce lo dice da psicoterapeuta in realtà stiamo cercando di viaggiare dentro noi stessi per ritrovarci avevo detto che Andrea Bocconi non è soltanto uno psicoterapeuta spero di aver contribuito a confermare questa mia opinione la ringrazio molto eh e spero di poterla ancora riabbracciare virtualmente come facciamo questa sera anche attraverso qualche pagine di nuovo libro ma non necessariamente magari percorrendo qualche viaggio va bene? Vi ringrazio molto dell'invito è stato molto interessante parlare con voi con lei Anche per me a presto allora buon lavoro buona vita a presto Buona vita Buon lavoro buona vita a presto Grazie a tutti.